Ciao a tutti, io sono la dottoressa Ori Sara, sono il direttore sanitario dell'Hospice Villa del Gisa di Ravenna, nonché medico pagliativista che opera all'interno della struttura. Da cinque anni a questa parte, grazie all'OIOR, svolgo la mia attività di medico pagliatore. È un'attività che mi riempie le giornate e che mi ha insegnato tanto. Grazie all'OIOR stiamo sostenendo questo lavoro all'interno dell'Hospice di Ravenna, non solo io, ma anche un altro medico e da un anno a questa parte un terzo medico che si sta dedicando all'attività di reparto, ma non solo, anche le psicologhe che grazie all'OIOR lavorano nel nostro team all'interno della struttura e la fisioterapista. Sono delle attività di fondamentale importanza, a Ravenna il paziente oncologico ha la possibilità di essere seguito dall'esordio della malattia fino alla fine. Noi ci occupiamo della fase più critica, quella che necessita di supporto, quella che necessita di sostegno sia per il paziente che per la sua famiglia. Ritrova nel team dell'Hospice un gruppo di professionisti che l'aiuta ad affrontare le difficoltà a cui va incontro quotidianamente. Le cure palliative sono delle cure di fondamentale importanza, si parla sempre di più di cure simultanee alla diagnosi di malattia. Il paziente fortunatamente ad oggi è un paziente lungo sopravvivente che ha bisogno di un team di esperti che nel momento di maggiori difficoltà a causa di effetti collaterali non facilmente gestibili possa trovare un'equip di cura su cui possa fare affidamento. Le cure palliative servono a questo, servono per accompagnarli in tutti i momenti di difficoltà fino alla fine dei loro giorni. Grazie all'OIOR l'Hospice riesce a mantenere le sue attività poiché fornisce materiale umano grazie ai medici, alle psicologhe e ai fisioterapisti. Sostiene grazie alle donazioni della popolazione di Ravenna tutta la nostra attività ma anche tutte le iniziative che stanno intorno al paziente e alla sua famiglia garantendo anche da un punto di vista del comfort quelle che sono le cose che ritroverà all'interno della struttura quindi gli arredi piuttosto che tutte le iniziative a loro favore i servizi di trasporto, di parrucchiera e tutto il volontariato che può sostenere la famiglia e il paziente. Scegliere di donare il tuo 5x1000 all'Istituto Oncologico Romagnolo significa lottare insieme a noi contro il cancro quindi se anche tu vuoi essere vicino a chi soffre insieme a chi cura, dona il tuo 5x1000. Grazie. Grazie.